E intanto dobbiamo dire che aspettiamo anche un momento molto importante perché l'Italia sarà protagonista proprio nel mondo e parleremo di agricoltura. E allora vediamo subito i nostri articoli perché da sabato 26 settembre, lo vedete, il Ministero sarà un G7 agricoltura inclusivo con uno sguardo sull'Africa. E questo è il video che si vede perché stavamo dicendo che il 26 settembre si reclusa precisamente nella splendida isola di Ortigia si apre il G7 agricoltura e il Divinazione Expo 24. Tra poco capiremo anche che cos'è, un luogo simbolico e dobbiamo dire che Siracusa e Ortigia sono da sempre crocevia di culture millenarie oltre a essere poi patrimonio dell'UNESCO. E allora collegichiamoci con il Ministro Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Buongiorno Ministro, allora dobbiamo dire subito che grandissima attesa proprio per il G7 agricoltura e dell'Expo 24. Allora che cosa vedremo e quale sarà poi la presentazione di cui abbiamo parlato anche del G7 inclusivo, aperto, in che modo? Intanto buongiorno e permettimi di orimmi al cordoglio degli italiani ma della città di Palermo in particolare per la perdita di Totò Schillaci. Ha accompagnato tanti ragazzi, io avevo 18 anni nel 1990 e furono notti magiche ed emozionanti soprattutto grazie a lui. Detto questo in Sicilia ci sarà il G7, ci sarà il G7 nelle date che hai appena sottolineato ma in realtà ci sarà una Expo, la prima Expo dell'Agricoltura e della Pesca dal 21 di settembre fino al 29 di settembre nel quale si confronteranno le grandi nostre università, i centri di ricerca, il mondo delle imprese, dell'Associazione degli Agricoltori, dei Pescatori con la politica, le istituzioni a livello internazionale, europeo e mondiale per ragionare di quello che dovrà essere il futuro del pianeta, del cibo, dell'alimentazione, dell'equità attraverso la redistribuzione corretta nelle filiere produttive del reddito e del valore dei prodotti. Ovviamente l'Italia è protagonista perché il Made in Italy ci rende orgogliosi ma è anche una risorsa importantissima per creare sviluppo e lavoro. L'Expo vedrà circa 600 imprese che esporranno i gioielli che l'Italia sa produrre e ci saranno spettacoli, ci saranno momenti di approfondimento. Sarà sostanzialmente il primo G7 aperto. Non si chiudono i ministri a parlare tra loro senza ascoltare ma bisogna ascoltare e rendere possibile a tutti l'accesso alla qualità che è quella che noi italiani sappiamo meglio di altri rappresentare. Ci sarà anche un G7 giovani perché i giovani sono la speranza del futuro e sui giovani investiremo. G7 giovani sarà organizzato con studenti che proverranno dalle diverse nazioni che compongono il gruppo dei sette e discuteranno delle criticità di oggi, delle problematiche ma soprattutto delle risposte a cui loro hanno diritto e che loro stessi avranno la possibilità di proporre ai paesi G7. Hai ricordato i paesi africani, con l'Africa bisogna creare uno sviluppo congiunto perché se l'immigrazione illegale va fermata e l'immigrazione legale va organizzata in modo tale che chi vuole possa venire a lavorare in totale sicurezza anche nel nostro paese, dall'altra parte vanno rimossi i motivi per i quali centinaia di migliaia di persone sono costrette dalla fame a scappare dalle loro terre. Bisogna aiutarli a svilupparsi aiutando ovviamente anche le nostre imprese ad aprire nuovi mercati. Ecco Ministro, una cosa, visto che si parlava proprio di inclusione e poi addirittura di apertura non è un caso proprio anche quel territorio, la Sicilia, è la porta d'ingresso veramente per l'Europa quindi anche simbolicamente un'apertura a braccia aperte. Però le chiedo come facciamo a tutelare, visto anche la difficoltà, il nostro prodotto italiano quindi il Made in Italy all'estero, quando si parla comunque di Italian Sounding e soprattutto per far sì che i giovani, visto che lo ha sottolineato, possono, come si sta vedendo adesso continuare a investire proprio in agricoltura e far sì che possano avere anche poi reddito e non sia solamente un sacrificio. È ovvio che noi dobbiamo continuare ad investire sulla qualità. L'Italia ha 3.000 anni di storia, di contaminazioni che ci rendono unici. I nostri prodotti sono di altissima qualità. Bisogna spiegarla la qualità, raccontarla, descrivere che cosa c'è dietro il nostro prodotto in termini di sicurezza. Per esempio, nella Expo ci saranno tutte le nostre forze dell'ordine. Abbiamo il sistema più controllato del pianeta. Ogni cosa che viene prodotta in Italia è controllata, è sicura. Anche quello ha un valore. E se noi saremo in grado di descrivere bene i nostri prodotti, il nostro export non solo aumenterà come sta avvenendo in termini quantitativi, ma ancora di più in termini di valore. L'Italia è riconosciuta non solo da noi, ma da tutto il pianeta come il luogo del bello, il luogo della produzione di qualità, il luogo del valore. E dobbiamo insistere su questo, perché ovviamente più i nostri prodotti avranno mercato e più i nostri prodotti cresceranno di valore e più ci sarà redistribuzione di questo valore per tutta la nostra popolazione e si creerà ricchezza. Allora, prima di salutarla, Ministro, le chiedo questo. È veramente una curiosità personale. Che cosa si intende per l'Expo Divinazione? Divinazione è la sintesi di Divina Nazione. Una nazione che veniva così riconosciuta proprio, per esempio, dagli antichi greci quando arrivando sulle coste siciliane e calabresi decisero di chiamarla Grande Greci. A voi immaginate un popolo così orgoglioso come i greci che arrivando in un altro posto dicevano questa è più grande della nostra patria. Quanto è bella questa suggestione nel raccontare uno straordinario luogo come Siracusa, una città antichissima nella quale si sono stratificate tutte le contaminazioni dei popoli che hanno avuto accesso alla nostra Italia. Ci hanno lasciato un segno, hanno formato il nostro DNA. È lì che noi metteremo insieme cultura, sicurezza, impresa, giovani, idee, valori e anche sport perché anche su questo dedicheremo un pensiero a Toto Schillaci magari perché possa accompagnare quei tanti giovani che scelgono l'attività sportiva come metodo per garantire il proprio benessere accanto al buon cibo. Ci sarà una partita molto bella di pallannuoto in acqua tra Italia e il resto del mondo tra i giocatori che giocano in A1 italiani con quelli che giocano in A1 che vengono da altri paesi ma ci sarà anche ciclismo ippica, atletica, arrampicata, box perché il quadro della buona presentazione dell'Italia è un quadro complesso e dobbiamo provarla a mettere tutti insieme e a Siracusa ci sarà tutto questo quindi invito tutti quelli che vorranno a visitare questa straordinaria città sempre ma in questo momento anche impreziosita dai tanti imprenditori, imprenditori agricoli della trasformazione e della pesca che saranno presenti con le cose più belle che sanno fare. Grazie, grazie Ministro Francesco Lollobrigida quindi seguiremo anche noi tutta la settimana da qui dallo studio di Uno Mattina. Buon lavoro! Dal 21 al 29. Grazie, grazie Ministro. Grazie, grazie a voi e buona giornata a tutti.